. La bionda, ospite spesso dei programmi della D'Urso, ha rivelato di non parlare con il fratello da diverso tempo e la pausa sarebbe la versione della moglie agenti di Italia. I nomi di tre probabili concorrenti del reality, al momento non ci sono ancora confermi per quanto con certi I nomi sono concorrenti ma il testo lo ricercano sul web i nomi di alcuni potenziali del futuro. Il primo nome è stato quello di Francesca D'Amore, la nipote del magnifico canicante Fabrizio. Francesca ha avuto una lunga relazione con Daniele Interrante ed è stata spesso ospite dei programmi della condottrice maturale. Apprezzo sempre più piede la candidatura di Alberico Lenni, farmacista conosciuta per le sue abieto in raccorsi. Anche lui lo stesso ospite di Barbara D'Urso per parlare dei suoi pazienti e, comprensibili molto, è sempre al centro di acquisissime campagne. Secondo quanto riportato dal sito di Davide Mangio, infine, la terza concorrente che potrebbe entrare nella casa del grande fratello potrebbe essere Fariba, la mamma di Giulio da Samaria. Staremo a vedere se nelle prossime settimane arriveranno conferme per quanto concerne i canoni appena fatti, al grande fratello Ivana Icardi. Come detto in precedenza il settimanale oggi ha svelato chi potrebbe entrare nella casa del grande fratello. Si tratta di Ivana Icardi, la sorella del numero 9 di me. Spesso la bella argentina è ospite di Barbara D'Urso per parlare e raccontare il rapporto con la sua famiglia e il fratello. Ormai da anni la bella Ivana non ha più rapporti con il calciatore e tanto non con il fratello. La conta, ha detto Ivana, sarebbe Ivana Nara che avrebbe isolato il marito dall'intero canone. Spesso, come detto, ha parlato in una salottina di canone 5 per chiedere al fratello un conflitto che non è mai arrivato. Staremo a vedere se nelle prossime settimane sarà confermata la presenza della giovane Fariba nella casa e se riuscirà a parlare magari a più. Spesso, come detto, ha parlato in una salottina di canone.